buonasera amici io sono papi e l'esamele siamo sempre 096 e questa sera faremo gli highlights sull'ultima partita delle qualificazioni agli europei che è Italia? no Ucraina Italia mi hai smontato e Ucraina? Italia ok va bene ragazzi lo spoileriamo partiamo con la partita la partita com'è assoluta pubblicità? alza un po' la voce se tenete ok diciamo che ne abbiamo due su tre su tre perché a noi ci basta anche un pareggio allora va Asper pronostico per me vince l'Italia eh papà quanto vince? 2 a 0 volti Chiesa e Barella Chiesa e Barella 3 a 0 perché segnala che in realtà Jack Asperino 3 risultati dobbiamo fare come 3 risultati? tu devi dire 3 risultati 1 a 0 2 a 0 3 a 0 allora secondo me finisce o 1 a 3 con il il gol secondo me segna Federico Di Marco e chiede la doppietta oppure finisce 0 a 0 perché questi qua non si mettono a fare secondo me la barriera per perdere molto tempo capito? eh papà se non finisce 14 a 16 eh vabbè vai parti aspetta papà non ho interato il risultato e secondo me finisce pure 1 a 0 perché questi qua arrivano la barriera dicono non aspettate prima segniamo e poi facciamo la barriera perché può essere che noi quando facciamo la barriera per sbaglio prendiamo gol e quindi non ci qualifichiamo quindi o 1 a 3 o 0 a 1 o 0 a 0 Amici di Sky, questa è la Bayern Arena di Leverkusen. Leverkusen in Germania, bella coreografia. Dove gioca il Bayern Leverkusen. Giorginio, Barella, Di Marco. No, non è Di Marco. Per chi è? Non lo so, non è Di Marco. Un tipo strano. È un ucraino, mi so. Siamo al quinto minuto, l'Italia attacca. C'è il cross, secondo palo. Chiesa. Al centro. No. No, questa è chiesa. Federico, si mangia un gol già fatto. Che strano queste magliette pire di colori, eh? Eh, ci vorremmo comprare. Tutte bianche, ma con disegnini particolari. Ah, che affacchissimo. Madonna. Gigi. Paratona di Gigi a mano aperta al tredicesimo. Al 16. 12? Sì, al 16. Oh, siamo a 15. Al 6. Oh. Sesto. Vi hanno li conosco in giocatoria in breve. Oh, parella, parata d'Itra e tribunale. Come diciamo questo tribunale? Non lo so. Tribunale. Tribunale. Vitale, parte pallapiede? Ma non l'ha. Ma non il filtronte? Ma no, ma no. No. Ma tu per tu col portiere. Come fai a sbagliare? Ma Davide, è fra te. È fra te sì quello. Di Marco. Tacco. Chiesa. Giacomino non riesce a buttarle in rete. C'è. Dove stiamo attaccando, eh? Secondo te? No, è l'Ucraina. Adesso è l'Ucraina. Ma roba l'ha combinato. Maronna, meno male. È uscito proprio a vuoto, a vuoto, però tu hai recuperato. Come hai fatto una roma sci? Non lo so, hai visto? Se ancora attaccano. È ancora l'Ucraina, vai a rigore. No, non è rigore. Meno male. È finita. È già finita. Zara, zara, siamo qualificati. E vai, e vai, e vai. Comunque va, guarda. Vabbè, ci qualifichiamo come se utile nel giro, ma va bene così. Dobbiamo andare a difendere il titolo che è il nostro. Vabbè, guarda, qua ci sta un attimo una cosa che mi piace, la vediamo un attimo. Contetto Cristante, Mudrick, è la rigore. Vediamo. Perché che parte fa? Io che l'ha solo visto che la rigore. Secondo me la rigore, se vediamolo bene. Ma tanto non glielo danno il rigore. No, un altro rigore al novantesimo. È al novantatresimo. E questo è il rigore. Vediamo. Ma questo è il rigore. Vediamo. Questo è il rigore molto maletto. Gli Ucraini usciranno pazzi dopo questa partita, veramente. Vediamo. Però ormai la partita è già affidata, quindi non glielo posso non ridare il rigore. Vediamo che succede. No, guarda, guarda. È fallissimo. È ritardo il distante. No, mamma mia. Ci ha messo pure il piede sul piede, no. Il rigore è tutta la vita. Comunque goto che non glielo ha dato. Siamo stati graziati dall'arbitro. È graziati proprio. Ha fatto un fallo stupidissimo. Ci ha fatto rischiare la qualificazione. guarda, ma è che comunque anche se io dava il rigore può essere che Gigi lo parava e passavano lo stesso. Eh, contarsi. Però un conto è così. Un conto è dividi al novantatresimo, mettete la finita. Vabbè. Comunque, ragazzi, se il video è piaciuto, mi raccomando iscrivetevi al canale sempre a 096 e metteteci un bel like. Io sono Papi. E lei è Samuele. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Ciao.